intorno, intorno, intorno fammi distruggere questa paura del futuro me la prendo, 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 prendo ti meriti il meglio dalla vita ciao, ciao, ciao ciao grazie di essere qui, 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 qui qui, 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 qui con me oggi, oggi, oggi oggi sono qui in versione un pochino più elegante indosso anche un vestito, mi son fatto una buona conciatura carina mi son messa gli orecchini carini perchè questa è un'occasione un po' speciale infatti oggi andremo a a fare un video che per me è stato importante cioè l'inizio dell'anno nuovo per un inizio dell'anno nuovo positivo e carico e motivato e senza paure quindi sarà un video un video di rimozione di pensieri delle paure negative ma non solo anche un video di inserimento di pensieri positivi un video appunto di pulizia e di mettere a posto e di mettere dentro tutte le cose belle che ti meriti e tutti i pensieri belli che dovresti avere quindi è un video anche che vuole un po' tranquillizzare un po' di andrà tutto bene ci sta sempre quindi questo è l'obiettivo e secondo me è un video molto importante e questi sono video in cui ci metto tanto 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 me stessa ci metto me stessa in tutti i video però in questi video ci metto veramente tutte le mie buone intenzioni tutto il mio cuore tutto il mio affetto quindi sperai questo passi e ricorda è sempre un video youtube quindi ricorda se questo video ti piacerà ti metto un bel mi piace e ti lasciare un commento di supporto che mi fa sempre tanto tanto bene tanto piacere cominciamo e cominciamo nella cosa che non ho mai usato qui sto spricionando il suo profumo questa salvia bianca che serve per ripulire un po' l'aria no? quindi mi sembra perfetto non l'ho mai usata la prima volta che la provo quindi ripulirò anche un po' la mia aria no? la mia energia per avere l'energia più positiva possibile da trasmettere a te ok pienino non so quanto lo debba accendere non so quanto lo debba accendere non so quanto lo debba accendere io direi che così è sufficiente sta già facendo il suo fumo spero tu riesca a vederlo è un profumo buonissimo molto aromatico e sa proprio di quando brucia la legna buona vado a passarlo un po' attorno a me e attorno a te e attorno a te attorno a te attorno a te attorno a te se vuoi puoi chiudere gli occhi se vuoi puoi cominciare a ispirare ispirare se anche tu hai un po' di salvia bianca puoi provare ad accenderla te la passo intorno 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 ok inspira un po' mamma mia ma è un profumo buonissimo ok adesso la metto via e facciamo un po' di tre respiri profondi 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 ok per concentrarci ok per concentrarci ok e uno e due e tre e adesso cominciamo con la rimozione dei pensieri ma la vorrei fare in maniera un pochino diversa voglio ritogliere oltre ai soliti pensieri anche delle cose specifiche specifiche per questo nuovo anno e con nuovo anno ovviamente intendo settembre che per la maggior parte delle persone significa nuovi inizi prendo il mio quadernino dopo mi sono segnata tutto 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 quindi prima di andare su una rimozione positiva in generale vado a togliere queste tre paure ok quattro anzi ok la prima è la convinzione di non essere abbastanza di non valere abbastanza non è vero e te lo vorrei togliere dalla mente ok quindi lasciamela prendere e portartela via distruggere questa credenza assolutamente vorviante ok quindi lasciamela prendere con queste pinzette speciali speciali ok ok lasciamela cercare la vorrei prendere tutta quindi cominciamo ecco qui la prendo 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 zac 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 gli strucco e soffio via 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 ce n'è ancora un po' quindi prendo 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 zac 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 la prendo distrucco e soffio via distrucco e soffio via soffio via soffio via la prendo un'altra volta eccoci qua zac 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 via via è andata? ok e adesso togliamo la paura del futuro la paura di ciò che non sappiamo che accadrà è assolutamente inutile che ne abbiamo paura o no? non sappiamo cosa ci accadrà quindi tanto vale non aver paura anzi fiducia ok? quindi togliamo questa paura dalla testa eccoci qua allora fammela prendere un pochino fammela trovare ok ok eccola qui zac 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 e poi fammi distruggere questa paura del futuro quest'ansia del futuro non ci serve via 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 e prendo e zac 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 e ora passiamo a un'altra paura che anch'io mi sto togliendo dalla testa che è la paura del fallimento anche questa a cosa serve ad assolutamente nulla quindi togliamocela dalla testa per permetterci di sperimentare e anche sbagliare perché no? ok? togliamoci questa paura del fallimento perché non ci permette neanche che vengano a noi delle cose belle magari ok? quindi prendiamo prendiamo questa paura la prendo 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 zac 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 e e lontana 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 da qui lontanissima e l'ultima cosa che vorrei permetterti di fare è lasciare andare ciò che non mi serve più quindi vorrei prenderti ciò che non ti serve più dei rancori che non ti servono più delle amicizie passate che non ti servono più delle delle delusioni che non ti servono più qualsiasi cosa tu debba lasciare andare a cui sei attaccato ma devi lasciar andare lascialo andare ok? lasciamelo prendere lascia andare ciò che non ti serve più per fare spazio a ciò che di stupendo ti deve accadere ok? quindi lascia andare e lasciamelo prendere i piedi di me ok? prendo 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 zac 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 prendiamo affidami tutto 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 ciò che devi lasciare andare tutto 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 ciò che devi lasciare finalmente andare lo prendo lo prendo io lo prendo io lo prendo io lo prendo io perché non ti serve più magari ti è servito ma non ti serve più 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 e via 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 abbiamo il respirone di lasciare andare appunto fuori tutto via bene adesso che abbiamo creato spazio per le cose nuove per delle esperienze nuove per delle persone nuove per delle emozioni dei sentimenti nuovi cominciamo la seconda parte guarda sai che sento ancora di più il profumo della salvia sarà che stiamo ripulando un po' tutto che cosa è questo? è un balsamo per ritrovare energia positiva e gratitudine perfetto e si chiama happiness palma è un po' appunto energizzante per focalizzarci sulle cose positive e su ciò che abbiamo di bello e che arriverà di bello nel futuro andiamo quindi prenderne un po' dai lo scaldo bene 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 lo scaldo bene 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 tra le mie mani e adesso un bel respiro e ancora un respiro e ancora un respiro lascia che questo entri entri e però vada tutta la tua mente del tuo corpo devi andare ad applicare leggermente anche qui sotto tutto e anche sotto i tempi ok lo annuso un po' anch'io e è un po' anche balsamico molto fresco riesce a penetrare tantissimo proprio e rimane dentro che ve lo metto un po' qui mi piace tantissimo ogni volta che voglio un attimo concentrarmi essere grata motivarmi me lo me lo annuso me lo applico mi piace tanto adesso sempre sul mio guardernino mi sono segnata le ultime cose le cose che voglio inserire nella tua testa le convinzioni le frasi le motivazioni intanto prima te le dico così e poi le ripetiamo insieme non so cos'è che sia questo suono perdonami è leggero ti meriti il meglio dalla vita ti meriti il meglio dalla vita sei capace di superare qualsiasi sfida sei capace di superare qualsiasi sfida e io credo in te e tutto qui è sei in grado di migliorare la tua vita fai spazio a nuove opportunità fai spazio a nuove opportunità a nuove opportunità ti perdoni per gli errori del passato adesso adesso prima di ripeterli e di assimilarli assorbirli con un io come affermazioni quindi io posso io voglio eccetera io merito vado a creare letteralmente spazio nella tua testa così ss ss scratch ss scratch ss 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 scratch scratch s élect s scratch via 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 scratch 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 e adesso ripetiamo tre volte queste frasi, ok? ma in prima persona perché vorrei che le ripetessi con me sono capace di superare qualsiasi sfida sono capace di superare qualsiasi sfida sono capace di superare qualsiasi sfida mi merito il meglio dalla vita mi merito il meglio dalla vita mi merito il meglio dalla vita sono in grado di migliorare la mia vita sono in grado di migliorare la mia vita faccio spazio a nuove e stupende opportunità faccio spazio a nuove e stupende opportunità mi perdono per gli errori del passato mi perdono per gli errori del passato mi perdono per gli errori del passato questa è per me fortissima andiamo via quindi andrà tutto bene questa ritorna alla routine questa inizia di nuovo anno andrà tutto bene non ti devi preoccupare non ti preoccupare andrà tutto bene andrà tutto bene e saprai gestire tutto al meglio ho fiducia in te ho fiducia nelle tue capacità ho fiducia che saprai gestire al meglio ogni sfida e che saprai prendere tutto al meglio anche da queste situazioni e non ti preoccupare andrà tutto bene andrà tutto bene andrà tutto bene andrà tutto bene e ti meriti il meglio e sei abbastanza così come sei sei abbastanza così come sei se è abbastanza così come sei io credo in te io credo nelle tue capacità io credo nella tua buona volontà io credo nella tua volontà di fare il meglio anche quando il meglio è riuscire a fare poco e io ti auguro l'inizio del anno nuovo splendido, pieno di emozioni, pieno di nuove sorprese te l'auguro davvero davvero tanto e me lo auguro, ovviamente io spero davvero che questo video che ti sia piaciuto, che ti abbia motivato e che tu ti senta meglio adesso lo spero davvero tanto il mio obiettivo è proprio farti stare meglio e potrei ascoltarlo tutte le volte che vuoi per qualsiasi occasione per qualsiasi momento dell'anno in realtà quindi io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio 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 si è giunta l'ora di abbassare se è giunta l'ora di le luci e augurarti una buona 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 notte sogni d'oro sogni d'oro sui, 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 sui cenate un lega a noi dei miei piccoli pasticcini al cioccolato un bacione un abbraccio forte forte che li spero